Buonasera, siamo qui con Gloria Baldi, autrice di un'ottima prestazione, sia personale che complessiva di squadra. Come ti è sembrata la partita oggi? Sono molto contenta, innanzitutto per il risultato, perché comunque sono punti importantissimi questi e quelli della partita scorsa, per staccarci un po' da quella che è la zona rossa, zona in cui non vogliamo stare. E sono molto contenta anche del fatto che stiamo dimostrando di crescere e riusciamo a recuperare i momenti di difficoltà e svoltare la partita, come il primo set che è stato una partenza a rilento, alla fine invece siamo riusciti a cambiare marcia. E il primo set, come mai questo primo set è così un po' in difficoltà? A volte facciamo fatica a ingranare, però come ho detto prima l'importante è rendersene conto in tempo e cambiare quello che non sta funzionando. Oggi ce l'abbiamo fatta e dobbiamo continuare a fare così. Perfetto, grazie e buona serata. Anche a te.